Con una lettera indirizzata al Presidente della Regione Puglia, l'assessore regionale Sebastiano Leo, al Presidente della provincia di Lecce, l'amministratore unico di Alba Service, la Confederazione Cobas di Lecce ha chiesto un incontro urgente per una crisi occupazionale invisibile ma drammatica che investe tutti i lavoratori e le lavoratrici della società. Il personale del servizio di pulizie ed uscerato non lavora e attualmente percepisce solo il Fondo di Integrazione Sociale. Anche le assistenti sociali impegnate nel progetto Rete Argento Prima Accoglienza non è stata rinnovata la convenzione tra la provincia di Lecce e l'azienda sanitaria e sono stati sospesi i servizi garantiti da queste lavoratrici e i cittadini che devono rivolgersi alla porta unica di accesso presso il distretto sociosanitario del Salento. Alba Service è uscita dallo stato di liquidazione con un concordato che anche richiesto da parte dei lavoratori, la dolorosa rinuncia da una parte delle proprie aspettanze arretrate. Ma questo concordato, che prevedeva il rientro in servizio di tutto il personale, non è stato ad oggi applicato. Il personale del servizio pulizie attualmente non trova impiego nella ripresa dell'attività di Alba Service come le assistenze sociali, mentre il personale addetto alla manutenzione delle strade e degli edifici scolastici attualmente lavora a 21 ore settimanali a fronte delle 40 ore previste dal contratto collettivo di lavoro. I sindacati chiedono quindi risposte certe per i cittadini e di garantire una piena occupazione a lavoratori e lavoratrici che grazie ai loro sacrifici hanno contribuito a salvare la società dal baratro della liquidazione fallimentare dopo la disastrosa gestione dell'amministrazione Gabellone.